Ciao belli, ben ritrovati qui sul mio canale, io sono iKrieg ed ecco qua siamo in un gruppetto di tre persone e stiamo facendo un live su Lega, siamo con VortexBunned che è nascosto sotto mentite spoglie con un altro account tarocco e Wanted o chiamiamolo Simone ecco. Siamo qua, non abbiamo mai giocato a Lega, insomma la prima partita che facciamo, qua abbiamo le classi già fatte niente, cerchiamo di classificarci in modalità singolo in Lega Suprema insomma, quindi cerca pure con la tua very good connection. Parta, parta. Cristo Dio. Ah cazzo serie di punti, sbagliatissime ce l'avevo. Ok, vabbè come sapete tutti vabbè Lega devi vincere, giocare per vincere, dopo cinque partite come vedete lì in basso, vi posizionerete insomma in base a come avete giocato e niente, questo qua non è un nuovo account, è l'account vecchio che usavo per Gran Turismo e niente insomma così per appunto per utilizzarlo solo per Lega, ecco ho deciso di fare questo. Le modalità su Lega se non lo sapete sono tre, c'è cattura la bandiera, cerca distruggi e postazione e niente, bisogna vincere, non c'è un cazzo da dire. Ecco qua, vediamo prima partita, cosa esce? A caso, c'è subito. Come servono i giocatori per equilibrare le scuole? No vabbè, no magari le prime partite ecco, cattura la bandiera in slams, quindi vediamo c'è una per correre, questa qua si, buona buona, ok, vabbè, se le uccisioni metto torretta robot magari si riesce a fare qualcosa diciamo, cioè il discorso è che le serie uccisioni non servono a mettere alleate, perché come vedete non è possibile utilizzare inflessibile, quindi lasciate perdere cani, lozza, cioè metteteli se ce la fate prendali ecco, vi dico solo che fare 7 kg di fila e quindi prendere una torretta non è facile, quindi, se no vediamo. Allora, cattura la bandiera su slumas, provo lo scorpione, un terreno di volumi doveva essere apposta, c'è uno che fosse, oh, pensavo c'è uno che non entrava, invece no, aveva solo connessione di merda, sono connessionati loro sto giro, quindi, quindi sto cazzo, bam, e vado subito a morire, cristo, attenti che vengono da sinistra, eh, andiamo qua contro Diana, buona buona, corri maledetto, ma dai che schifo questo, established e l'ho sentito a centrale nel cimitero che schifo, ho fatto la bandiera anche se non c'è un'altra parte di hanno la nostra bandiera ho messo qui gioca invisibile roba forte e percezione ambientale beh vabbè dai però invisibile si ho visto ormai l'ha preso sta qua, l'ha presa che cazzo il nemico ha catturato la nostra bandiera per che non serve a niente c'è uno che mi spara a casa se la prendi tu ti copriamo mi hanno ammazzato centro lo stesso vieni qua vieni qua passa dalla casa guardassimo i nemici hanno la nostra bandiera riprendi la bandiera hai perso la nostra bandiera fate ritornare la bandiera la nostra bandiera tuffo della vittoria abbiamo catturato la bandiera un'altra uccisione missile hellstorm pronto uno passa da dietro vuole rubarci la bandierina torretta pronta allo schieramento la nostra bandiera è stata presa l'ho preso bandiera nella nostra base vane ce n'è uno lì attento i nemici hanno la nostra bandiera abbiamo la bandiera nemica preso arrivo la nostra bandiera è tornata la piazza adesso la torretta meglio va si si però vai 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 non sono un esperto di cattura la bandiera nemico eliminato vieni qua vieni qua vai vai abbiamo catturato la bandiera vai vai il sessore ha acquisito il bersaglio coordinate colpo fulminante ricevute in arrivo uno qui a destra colpo vai vai turret vai turret adesso ascoltatemi un attimo andate sulla bandiera vi rissecco con l'elstorm la prendete andate ok sono tre sulla bandiera attenti allora due li ho presi c'è due li ho presi uno l'ho preso l'ho letto lo hit that uno è sulla destra buona a chi sta sparando quel mongolo uno sta sparando la mia torretta mi sa ma vaffanculo distruggi la tua di torretta se riesci a prendere la stronzo corretta corretta io sono centrato attenti centrale attenti dietro buono ho preso si si abbiamo catturato la bandiera si mi ha distrutto si è messo a sparargli da un angolo non riuscivo a vedere la torretta sono un amico lo stesso il storm pronto la nostra bandiera è stata presa porco due bombe dure cazzo sparavo a te io di uomo ma che bidone sto qua mi ha spunato lì prego prego no non l'hai presa che schifo che schifo non mancava hai corso no 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 eh vabbè è ruotato dal signore non muoiono si ma questi qua sono su va bene va bene intanto adesso c'è una torretta da piazzare missile a storm ride ancora di nuovo da tirare e vediamo qua chi c'è ah che c'è un centrale un centrale ma no non puoi andare centrale no la nostra bandiera è stata presa l'ho mancata anch'io vedo se riesco a recuperare la nostra ah non ce la fai non ce la fai la nostra bandiera è a terra sono moruto sono moruto bene primo round si è concluso mutiamo questi qua che non mi interessa sentire questi francesi vediamo bananed quella mimetica dio dei morti attenzione lo ferma lo ferma quella di squadra nostra ma c'è come se la uno ha acquittato lo sta facendo cattura la bandiera allora la torretta qua io direi di piazzarla non so dove catturate l'obiettivo vediamo la piazza di così guarda no non lo so dio cristo come cazzo la piazza la torretta qua la piazza di qua da questa parte qua della strada ma vai in culo va ok no la merda non così eh dove cazzo la metto scusami li passano di qua lì accanto alla macchina quel qui non serve in cazzo no la prendi prendi un cazzo tu hai capito hanno perso la nostra bandiera la nostra bandiera la metto più avanti scusami dove cazzo dove cazzo la metto se ne prendo un'altra la metterò di qua sulla sinistra se la metto a sinistra passano da destra la distruggono se faccio il contrario abbiamo la bandiera nemica ma vai ma è un merdo ma è un merdo la bandiera è a terra ha andato lì sulla bandiera attenzione nemico ha riportato la sua bandiera buona allora e vedete che vi libero con l'aestorm non so vedi la torretta che uccide vedete che vi libero con l'aestorm un attimo allora uno dentro il garage dentro il garage dentro vai prendi prendi ok ne arrivano due da dietro attenzione nemico ha riportato la sua bandiera colpo fulminante alleato in arrivo buona grazie grazie macchinina grazie macchinina bombe la bandiera nemica è nostra via e che cazzo ci stiamo tutti attaccati poi ci fottono ahhh i nemici hanno la nostra bandiera no gesù cristo no nessuno eh ma mi lasciate da solo bandiera nemica alla base un'altra uccisione porco jesus la bandiera nemica è nostra dai corri corri scorta corri scorta l'ho preso no non vai da nessuna parte nemico eliminato eh va a fare in culo stronzi voi con la fibra sto con te io eh ok sto qua con te io buona vai torretta spara cazzo vai vieni 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 aspetta che lo prendono adesso dai ritornate la bandiera fate ritornare la bandiera buon vai buttati abbiamo preso il comando attenzione gusto maledetto ma che cioè ma che vomito sono cioè uccide poi si corica per terra eh esatto passo di divan buona corri corri no no riprendi la bandiera preso 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 fai tornare la bandiera la bandiera è stata presa la nostra bandiera è a terra buona io ho preso sto qua che voleva rubare le cose ma la torretta è una rotta no no la torretta è la che copre dalla destra quindi dalla destra non arrivano che schifo questo secondo me c'è uno di qua è infatti è uno stronto hai visto uno dietro ma che merda questo ma che merda messo lì questo type di merda sulla sua bandiera ma sei ridicolo continuate così siamo in vantaggio la bandiera sistemato dai corri zigaro eh però non c'è nessuno sulla nostra spai che c'è tra in culo ma se no sono tutti ho sentito dire granata ma non so da dove eccolo qua casa blu casa blu esce da casa blu attenzione attenti stavano a prenderla no devi morire no l'ho preso vai 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 run run here come on abbiamo catturato la bandiera nemica buona un 6,7 a 1 stranamente ce l'hanno presa anche una di bandiera quindi non so potevamo fare un risultato pieno un po' più gustoso ho leggero ma non sono ancora ma vaffanculo non sono ancora morto di granata quindi mi sta bene la cosa cazzo io l'ho più da fare per i 50 punti buona questa è la prima partita non è andata a male insomma un 7 a 1 e vabbè ovviamente lo sapete ci siamo messi in squadra da 3 appunto per essere classificati in singolo perché se ci mettiamo in 4 dobbiamo fare a squadre e a squadra insomma basta che manca un membro bisogna rifare tutto il posizionamento quindi siccome quelli che hanno gli orari compatibili siamo sempre noi 3 abbiamo deciso di giocare così insomma bene e non si è bloccato ma ci mette sempre un po' un po' 10.000 10.000 punti a partita ti danno Cristo padre e e